Bella regà, bentornati a una nuova puntata di Weekly Tauro spumeggiante, non è detto che sia spumeggiante, oggi parliamo del fenomeno del drafting applicato alla carriera. Il drafting per tutti quelli che come voi sono sicuramente appassionati ed esperti di corse automobilistiche, è presente quel fenomeno per cui quando una macchina si mette dietro un'altra macchina acquisisce tendenzialmente velocità. Perché per farvela breve, una macchina quando va molto veloce, no, gli arriva tutto il vento addosso e se una macchina si mette davanti è come se proteggesse quell'influsso di vento e quindi tu ti metti sulla scia, prendi velocità e poi riesci a superare anche la macchina che è davanti. Si chiama proprio drafting, poi adaltro non so se voi seguite le corse automobilistiche, io non l'ho mai fatto, solo di recente un po' per caso ho cominciato a seguire la Formula 1, che mi sembra un grande spettacolo, un grande fenomeno culturale e quindi è interessante vedere almeno dove vada l'attenzione delle persone. Tra l'altro se volessi provare a rappresentare questo fenomeno potrei utilizzare degli strumenti diabolici che ho in casa e mi furono regalati quando avevo tipo 10 anni ed è il fenomeno per cui il taxi si mette dietro l'autobus e a furia di essere protetto dal vento poi a un certo punto riesce a superarlo. Ora faremo finta che a 33 anni non abbia usato delle macchinine, però questo ho in casa per spiegarvi il fenomeno e tutto questo ragionamento applicato alla carriera se ci pensate è totalmente funzionale, nel senso che per avanzare nella carriera noi un pochino ci dobbiamo mettere sulla scia delle persone, in gamba, quelle che vanno un po' più veloci di noi. Può essere un capo, una capa, un collega in gamba. Quando siamo piccolini solitamente ci mettiamo nella scia dei genitori perché tanto sono quelle le persone che seguiamo, poi a un certo punto capiamo che magari possono insegnarci delle cose, però non tutto. E però nel lavoro in particolare non è che tu segui i genitori, a meno che tuo padre o tua madre non faccia esattamente quel lavoro, devi seguire delle persone che ne sanno di più. E in un settore pazzo interconnesso come il digitale mai come oggi è possibile mettersi sulla scia delle persone anche senza lavorarci insieme perché se ci sono dei leader che online ti affascinano di qualunque tipologia tu puoi comunque entrarci in contatto, puoi vedere i contenuti che pubblicano. Puoi potenzialmente fare in modo di, che ne so, anche stabilire un rapporto one to one perché poi spesso queste persone, c'è comunque una video call ogni tanto, una mail ti rispondono. E c'è un valore nel mettersi in scia a queste persone perché tu letteralmente stando dietro di loro hai la possibilità di vedere il mondo dal loro punto di vista e di accelerare il tuo percorso di carriera semplicemente perché impari delle cose in più e estendi un pochino di più il tuo punto di vista sul mondo. Poi, se riusciate a superare la persona che vi sta davanti, questo è tutto da vedere perché poi effettivamente bisogna vedere se con quella velocità che avete preso riuscite a prendere talmente, come dire, forza da poter superare il maestro o la maestra che in qualche modo vi ha insegnato. Quello poi dipende da mille fattori tipo la vostra ambizione, quanto è forte la persona che state seguendo eccetera eccetera. Però nella vita ci sono dei macro personaggi da cui ha senso mettersi in scia. Ovviamente ho cominciato a fare questo raggiamento proprio di recente perché per via di un'opportunità che potrebbe aprirsi, di cui vi ho spoilerato qualcosa nelle ultime puntate di Weekly Tauro. Cioè, mettiamola così, un grande imprenditore da cui ci sarebbe magari la possibilità di mettersi sulla scia anche solo per un lasso temporale limitato e sono quei personaggi talmente grandi che se tu hai la possibilità anche solo di percorrerci una piccola fase della vita, comunque prendi velocità, comunque grazie a quella singola persona, a quel singolo essere umano in cui ti metti fondamentalmente a seguire le sue orme anche solo per un anno di fila, comunque tu acquisti quella velocità che permette alla tua carriera di fare un passo in avanti. Poi ovviamente le strade si possono dividere, ripeto, come dicevo prima, in teoria potresti anche superarlo, però è molto difficile. La cosa fondamentale è prendere velocità e quindi chiedetevi, a prescindere dal contesto in cui state, quello che state facendo e la quantità di competenze che avete, quali sono le persone, o anche le aziende, però principalmente le persone, anche perché poi le aziende sono fatte di persone, quali sono i singoli esseri umani che possono darvi una mano ad accelerare il vostro percorso di carriera? Perché c'è un valore a fare drafting con loro, c'è un valore a mettersi sulla loro scia, che vuol dire ascoltare, che vuol dire osservare, che vuol dire magari fare anche qualcosa insieme a loro, però comunque state sulla scia di quella persona e non c'è niente di riduttivo o brutto nel farlo, non c'è niente di delegittimante, oh mio dio sto seguendo le orme di qualcuno, ma si fa così per crescere, cioè ti metti sulla traiettoria di una persona che evidentemente ne sa più di te, ha visto magari un certo tipo di problemi già prima di te, ti metti su quella scia e prendi velocità. Quindi chiedetevi cosa, assoluto chi, possa farvi prendere velocità. Ciao!